Proverete la città dove è nato Palo Orsi nel secolo scorso. Orsi che ha lavorato per tanti decenni in Magna Grecia e in Sicilia, in particolare nei luoghi dove il mondo greco nell'ottavo secolo avanti Cristo ha inventato la città moderna, cioè ha inventato il concetto dell'organizzazione dello spazio con delle regole di urbanistiche, dividendo gli spazi in spazi pubblici, in spazi privati, in spazi di circolazione che sono nelle nostre strade. Fino a pochi anni fa si pensava che l'urbanistica greca, la nascita della città moderna, era collegata con un architetto molto conosciuto nell'antichità, Ippodamo di Miletto, nel quinto secolo avanti Cristo. La ricerca archeologica iniziata da Palo Orsi nel secolo scorso ha consentito di capire che la nascita della città risale ben due secoli prima di Ippodamo di Miletto, cioè nell'ottavo secolo prima della nostra era. Orsi lavorava sulle necropoli di queste città, cosa che consente oggi di capire meglio la società di quell'epoca.